Musica 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 Vabbè quinto, quinto ragazzi, quinto ragazzi Quindi va benissimo Non perdo coppe giusto Più due, più due Se non perdo coppe ragazzi E continua così Prima ti ho detto nella intro che dovevo arrivare al meno quarto Non è vero Basta che non perdo coppe ragazzi Quindi dal quinto Perché dal sesto perdi coppe credo Quindi sì, dal sesto perdi coppe Quindi dalla quinta posizione in su È valido, è valido Qua ci siamo salati proprio al pelo però Stiamo per farlo in prima partita Forse me ne devo rischiare un po' meno Qua possiamo farci una kill Boom, ci godo Molto, molto bene Molto, molto bene Molto, molto bene, molto bene Allora qua bisogna La ulti ce la facciamo senza utilizzare i gadget Ok Quindi Si può prendere anche questo po' Quella qui Devo fare molto, molto veloce però Ok Mamma mia ragazzi Qua abbiamo rischiato un po' tanto Facciamo di nuovo la ulti ragazzi No, abbiamo preso pure un ok Tanto abbiamo ancora due gadget Bellissimo sto gadget Comunque veramente serve un botto Se lo dico qui non è molto Molto bello Vorrei arrivare almeno quinto Così ragazzi non mi ha raggiunto Ok quinto Quindi adesso possiamo rischiare tanto la challenge Anche se muoio Non la perdo Allora, volevo provare a prendere Eh no, me lo prende Shelly Eh no, vinceranno questi due qua ragazzi Vinceranno questi due brawler qui Mamma mia che rischio Mamma mia che rischio Eh ragazzi ma sto rischiando troppo però ragazzi Sto rischiando veramente troppo Anche se ormai è la mia che mi importa tanto in realtà Qui c'è Mico? No, è lì Allora Mico è mosso molto bene Io voglio scappare Allora, volevo scappare ragazzi C'è qualcun altro qui C'è qualche altro brawler Io dovrei stare nascosto Perché sto rischiando troppo ragazzi Non ho più gadget Non ho più gadget C'è qualche altro brawler qui? Da che mori? Da che mori? Da che mori? Ci guardo? No Ecco il brawler lì Eh vabbè ci sta, ci sta Oh ragazzi secondi Va benissimo benissimo Secondi secondi C'è sempre vada Non è la challenge Non è ancora finita Vediamo quanto durerà Mentre ragazzi se durerà troppo Un po' la chiudiamo Però almeno Almeno Credo che Massimo possiamo fare Beh no ragazzi Finchè non perdo Facciamo finchè non perdo Il giro può anche durare un'ora Anche se non lo credo Che durerà un'ora Anche perché io ragazzi Non è che sto nascosto Se no non vale la challenge La falla Ovviamente è una piccola della challenge È non Non rischiarla troppo Ho paura di incontrare una Shelly Lo sapete ragazzi Allora è un buzz Quindi Quindi Siccome Ragazzi è lì È veramente Edda Ci provo? No no Non ho avuto di base È un po' un problema È un po' un problem Allora qua possiamo prenderci Questi due power up Che non buttiamo via E siamo contenti Quel bull lì Ovviamente Non li vado addosso Sicuro Allora Molto bene Questi due power up Sono nostri Qua possiamo anche ammazzarlo Se ce ne frega Ok abbiamo scrivato La tua ulti Ora se vieni qui Ti ammazzo Se no Possiamo scappare Possiamo farci anche il gadget Se vogliamo Allora Non so se utilizzare la ulti No il gadget Non voglio sprecarlo Allora No ragazzi Mi conviene Allora Il primo qua Non è che mi piace tanto Ok Perfetto L'ottona loro Noi stiamo qua zitti Nel chill Poi Perfetto 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 Bravo Bravo Buzz Se mi becca Sono morto Ma lui sa che sono qua Forse non lo sa Allora Eh ragazzi Ho provato a scappare Forse dovevo stare Più nascosto Forse dovevo stare Più nascosto Sono un po' Uno scarsun Però vabbè Ce la siamo cavata Dai Almeno ce la siamo cavata Dai Molto bene Giochiamo ancora Finchè non perdiamo Finchè non perdiamo Il video continuo Finchè non perdiamo Allora Vediamo un po' Prossimo brawler Ragazzi Scatemi nei commenti Il prossimo brawler Che volete In questo challenge In questo tipo di video qua In questa challenge Quindi non perdete Adesso lo stiamo facendo Con Edgar Vediamo un po' Ok Allora Devo ammettere Che non è così difficile Con Edgar Perché comunque Puoi scappare Cioè abbastanza Nel chilling Ovviamente Raga diventa Cioè dipende Dalla partita Dipende da chi trovo In partita Raga Ovviamente Io potrei ammattare Tranquillamente Infatti lo ammazzerò Molto molto breve Allora Io c'ho la ulti Molto bene Grande kill Nel chilling Allora Allora Qua bisogna Farsi una ulti Perfetto Perfetto Se mi muovo la ulti Allora Qua bisogna stare Molto molto attenti E non è che lo push Quello Dai Molto bene Grande kill Vabbè Dai Facilissima questa Raga Questa qua è il chilling Raga Non sta andando male Stasfila con Edgar Molto molto bene Andiamo avanti Andiamo avanti Si continua a giocare Raga Finchè non si perde Finchè non si perde Finchè non si perde Ragazzi Continua A Hugar Si continua A giocare Ragazzi Finchè non si perde Allora Forse sicuramente qualcuno Che arriva Dal Cespuglio Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo No Eh ragazzi Ho voluto troppo Ho voluto troppo Edgar mi ha ammazzato Niente ragazzi Pensavo di andare avanti Ancora a lungo Invece di Xmax Con una giocata stupida Perde anche la challenge Con Edgar Però vabbè Quante partite abbiamo vinto Un po' Mi ha fatto 23 Quindi più di Leon Che con Leon Mi ha fatto i 16 Comunque ragazzi Mi sono divertito Il video di oggi è finito Non mancare questa serena Per il video Si iscrivetevi nel prossimo video Nel prossimo video Che brawler volete Vi ricordo di lasciare un like Con la descrizione Nella campanella A condividere il video Ottimo Stai amici Seguimi Stai su Discord Quindi Stai a un link In descrizione Se sto link In descrizione Andate a me Stai a un link In descrizione Per abbonarvi Stai a un link In descrizione Per comprare I miei Di sciver Persone Di Xmax Terzi In descrizione Per fare una piccola In descrizione Per seguimi Non mancate Questa serie In live Per il video Rienta Scrivetevi In commenti Un video Un progo Che porto E prossimamente In questa challenge Ragazzi Scrivetevi In commenti Anche se vi piace